Amici di FanoTV, ben trovati. In questo approfondimento in studio torniamo a parlare di uno dei temi che ci sta più a cuore perché riguarda un evento che è veramente il fulcro del nostro territorio, della nostra città ma anche della nostra regione perché porta avanti una tradizione, i nostri valori e anche il nostro folclore nel senso più bello del termine. Si parla del Carnevale 2022 e quindi non poteva non esserci come ospite in studio graditissima peraltro la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli. Buonasera. Buonasera a voi. Allora il Carnevale non si ferma. Abbiamo superato periodi insomma piuttosto impegnativi come il Covid che ci ha lasciati tutti a casa però il Carnevale è stato presente e ritorna in una maniera importante in una triplice versione perché partirà tra poco la settimana grassa così come si dice e poi ci saranno ben due appuntamenti con il Carnevale estivo ma andiamo per gradi. Partiamo dalla settimana grassa che ci piace. È vero il Carnevale non si ferma, non si è mai fermato e non si fermerà. Quest'anno l'abbiamo suddiviso in tre momenti proprio perché speriamo che insomma si vada sempre migliorando ma la settimana grassa non poteva non esserci. In questa settimana abbiamo concentrato gli eventi più culturali tra virgolette nel senso presentazioni di libri, mostre, tutto quello che normalmente facciamo nelle tre settimane di Carnevale è stato suddiviso. Ovviamente non mancheranno come da articolo 15 bis dello statuto comunale gli eventi che si devono fare per statuto cioè il sindaco Massimo Seri cederà le chiavi della città e i poteri per questa settimana al sindaco del Carnevale che quest'anno è un cupido un po' strampalato, è una cupida diciamo così, ecco la sorella di cupido. Va bene, va bene. E poi insomma giovedì grasso quando prenderà i poteri vi racconterà chi è e cosa fa. Beh tra l'altro l'amor scortese già la dice lunga. Ebbè certamente il tema di quest'anno è questo tutto iniziato con l'amor cortese però c'è stata una mano come vedete dal dal manifesto una mano esterna che ha voluto rendere un po' più scortese questa questa bellezza di questa opera del maestro Bruno Darcevia e quindi abbiamo detto ok allora quest'anno è l'amor scortese. Ovviamente non ha niente a che vedere con le violenze ma è semplicemente dei dispetti di cupido anzi di cupida alla alla popolazione fanese. Beh ci piace questa cosa sarà è comunque il friccicore quel quel tocco insomma del Carnevale perché insomma anche Cupido porta l'amore in una maniera divertente al Carnevale di Fano quindi una settimana ricca di eventi di appuntamenti culturali di appuntamenti che abbracciano anche la beneficenza però. Assolutamente abbiamo fatto beneficenza alla messa di San Paterniano noi siamo sempre molto vicini a questa istituzione importantissima della città come non dimentichiamo ovviamente i momenti goliardici al Castello di Montegiove faremo questa cena di Carnevale con delitto quindi in maschera ovviamente saranno premiate anche le migliori maschere anzi dirò che è tutto sold out per sabato abbiamo aperto anche la serata di Marte di Grasso quindi ci si può prenotare per un veglione anche il Marte di Grasso l'ultimo giorno di Carnevale dove saremo anche tutti noi consiglieri. C'è un altro appuntamento che comunque mi è caduto all'occhio come si dice bici e baci tanto per citarne un altro ecco. Domenica mattina con la collaborazione di Forbici fondamentale ovviamente faremo questa questo giro in bicicletta centro mare in maschera e l'appuntamento è in piazza e da lì partiremo per questo giro in bici mascherati anche lì ci saranno premiate le migliori maschere e insomma passiamo una mattinata divertente un po' diversa. Ovviamente tutti questi appuntamenti giorno per giorno li troverete poi nel programma nel sito apposito per l'appunto e nella pagina Facebook assolutamente sì per arrivare poi al primo marzo il Marte di Grasso. Il Marte di Grasso sì sembra proprio che io lo possa svelare perché sul programma è scritto che ci saranno le celebrazioni di fine Carnevale però chissà forse un pizzico di normalità lo ritroveremo forse ci sarà un pupo che prende fuoco davvero chissà è probabile venite in piazza e lo vedrete. Assolutamente e poi e poi l'estate l'estate che vede la nostra città comunque arricchirsi anche di turisti turisti che vengono al di là dell'estate appositamente per il Carnevale quello che solitamente troviamo nei mesi invernali quindi un primo appuntamento con i bambini per i bambini a giugno. Sì appunto come dicevo prima il Carnevale che conosciamo delle tre settimane classico l'abbiamo suddiviso e il primo weekend di giugno si farà quello che è il Carnevale dei bambini la mattina con le scuole ecco lo faremo appunto il primo weekend di giugno le scuole si sono rese disponibili ovviamente fino adesso non è stato possibile entrare nelle scuole con il voulon con la musica era vita come facevamo di solito e con con le esperte le le artiste esperte che andavano a dare una mano ai ai ragazzi in insomma insegnarli come si costruisce una maschera come si costruisce una mascherata e quindi invece adesso tutto si è un po riaperto quindi le scuole tutto è stato spostato da adesso e le scuole a giugno parteciperanno a questo a questa due giorni. E poi il Carnevale di Ferragosto 13, 14 e 15 agosto che cosa succede? Beh diciamo che questi due anni di covid certo sono stati pesanti non ci piacciono e speriamo che non tornino più però qualche piccolo lato positivo lo hanno dato e sono i lati positivi sono questi uno credo che tutti abbiamo capito che senza è più brutto è più brutto a livello umano a livello di gioco è più brutto a livello economico mi fermano tantissimi commercianti che mi dicono eh quando c'era il Carnevale e vedi quando non c'è si capisce quanto è importante a livello economico anche il Carnevale. Ed è importante anche perché è stato importante anche perché possiamo ci ha dato la possibilità di sperimentare l'anno scorso abbiamo sperimentato un Carnevale digitale come hanno fatto tanti ovviamente e quest'anno sperimentiamo un Carnevale a Ferragosto. Certo lo spirito di Carnevale a Febbraio questo lo sappiamo però possiamo sfruttare questo momento di Carnevale di Ferragosto è molto vendibile molto spendibile e quindi vediamo come vediamo come andrà e come sarà recepito. Senti Maria Flora al di là di quello che eh tutti sanno no di che cos'è il Carnevale di che cosa si fa Carnevale al di là del fatto che tu sei la presidente dell'ente carnevalesca ma per una fanese comunque come te quindi parla a nome anche di tutti i fanesi perché no ma che cos'è questo Carnevale? Che cosa alla fine che cosa ci è mancato perché tutto sommato è questo che stiamo dicendo e che cosa ci dà? Beh devo dire che prima di entrare in Carnevale forse anche io un po' nonostante voglio dire un passato con un nonno molto addentro alle cose di Fano oltre che alle cose nazionali forse lo davo quasi per scontato poi sono entrata in Carnevale e ho capito tutta la complessità di questa manifestazione soprattutto negli ultimi anni e tutto il grande lavoro che c'è dietro quindi mi sono detta forse ho imparato questo non solo per il Carnevale questo vale per tutto forse prima di additare giudicare dire forse sarebbe bene chiedersi ma perché queste persone hanno fatto questa scelta piuttosto che un'altra? questo vale per tutto e nella vita non solo per il Carnevale perché siamo abituati un po' no ad additare e questo l'ho imparato ho imparato a non farlo più a chiedermi prima perché poi eventualmente a giudicare magari negativo positivo questo è stato un grande insegnamento quello che sicuramente ci è mancato da Fanesi è il Carnevale nel senso che come dicevo prima l'assenza ci fa capire l'importanza della presenza quindi non posso dirti un evento in particolare il Carnevale in generale proprio il profumo di Carnevale la sensazione di Carnevale quel friccicorio che a febbraio ci arriva e che in questi due anni è stato un po' mozzato quindi questo speriamo nel 2023 di tornare alla normalità ovviamente intanto partiamo alla grande parliamo anche del tesseramento mi sembra doveroso sì quest'anno abbiamo un tesseramento importante ci siamo molto concentrati una consigliera in particolare si è molto spesa per fare in modo che questo tesseramento sia interessante non solo per veramente per delle agevolazioni importantissime che ha ma perché volevamo dare anche più importanza a chi partecipa a questo tesseramento cioè a chi dà le agevolazioni quindi avremo modo durante l'anno di conoscere bene i partner del Carnevale chi nel Carnevale ci crede e ha detto sì i tesserati dell'ente carnevalesca potranno nel mio esercizio avere un'agevolazione importante perché ci credo quindi questo è stato penso sia molto importante anche perché ovviamente i numeri del tesseramento che abbiamo normalmente che siamo sui 3.500 che sono insomma tanti tesserati ovviamente in questi due anni di covid sono minori è logico questo però insomma ci teniamo particolarmente perché non solo si dà una mano ovviamente al Carnevale si può partecipare alla vita sociale questo ce lo dimentichiamo però è importante la Carnevalesca è l'associazione più antica della regione Marche e far parte di questo ente deve essere anche una sorta di orgoglio si può venire in Carnevalesca vedere i documenti parlare con chi è disponibile con noi con me io sono sempre a disposizione per vivere proprio la vita della Carnevalesca dare una mano se si vuole quindi quando ci insomma se c'è una se c'è voglia o se c'è anche volontà di chiedere qualche cosa qualche chiarimento basta suonare il campanello vogliamo fare dei ringraziamenti particolari per questa edizione l'ingraziamento ovviamente va prima di tutto a tutti i consiglieri che ricordo sono tutti volontari siamo tutti volontari e quindi chi più chi meno con le proprie possibilità sono tutti molto presenti e lavorano per il Carnevale voglio ringraziare il Comune che comunque nonostante ci siano sempre magari polemiche di più di meno non c'è c'è comunque ci è sempre vicino fa quel che ovviamente ognuno fa quello che può in questo momento sicuramente tutti siamo più consapevoli di quanto sia importante il Carnevale e penso che questo sarà un momento di riflessione importante per tutte le istituzioni anche la regione che comunque nonostante il momento difficile ha creduto ancora di più nel Carnevale quindi anche a livello economico ci ha aiutato maggiormente con delle edizioni più limitate quindi questo significa che abbiamo buone speranze per il futuro anche perché ho aperto un dialogo molto importante con i Carnevali Marchigiani ho contattato tutti i Carnevali Marchigiani noi attualmente abbiamo una chat e i rappresentanti dei Carnevali Marchigiani verranno qui a Fano domenica la domenica di Carnevale per visitare i cantieri del Carnevale ovviamente la visita è aperta anche ai cittadini logicamente e poi andremo in centro storico e sfileranno insieme all'evento che ci sarà domenica pomeriggio di presentazione del carro del Norfi a Polloni sfileranno con noi fino in piazza e poi avremo un momento di riflessione comune per capire come ci si possa aiutare come si possa fare rete tra Carnevali e questo lo dico perché la regione in questo ha un occhio particolare ovviamente è molto interessata al fatto di fare rete con gli altri Carnevali questa cosa ci piace allora ricordiamo ai nostri amici a casa dal 24 febbraio al primo marzo ritorna alla grande il Carnevale di Fano l'amor scortese gli inviti tu gli amici a casa? certamente vi aspettiamo intanto giovedì grasso alle 16.30 di fronte al Palazzo Comunale insieme al Sindaco Massimo Seri e a Cupida che diventerà il Sindaco del Carnevale quindi per una settimana sarete governati da questo personaggio un po' particolare e poi mano a mano tutti i giorni ci sarà qualche cosa per cui incontrare il Sindaco gli esponetti noi e comunque vivere un pochino di Carnevale grazie allora Maria Flora Gianmarioli per essere stata con noi grazie al pubblico a casa naturalmente a Riccardo Sora che è in regia e buon Carnevale a tutti grazie a tutti